musica allora dopo un po' di divagazioni ho visto che praticamente qua dobbiamo sfondare dei muri dovevamo passare lì ma credo ok perfetto sfondare il muro qui che cazzo vai bimbo occhio dato il bimbo dettagli dettagli sembra anche qui che cazzo dove devo togliere era qua aspetta togliere le balle perfetto a su di qui ho trovato un mucchio di strani oggetti verdi che sembrano dei piccoli ananas perfetto salve l'uomo con un occhio solo è come un padre per noi nemmeno a lui piacciono gli adulti razioni no c4 munizioni vabbè a sto punto uno lo usiamo e ce la ripiamo perfetto e andiamo qua se possiamo entrare ok bombe a mano perfetto 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 queste credo forse le possiamo usare con quel tipo l'uomo ragno che stava sopra al tetto proviamo ad andare lì magari potrebbero essere utili per per ammazzare quel tipo non lo so andiamo a vedere magari magari è quella la solution vaffanculo quando ci abbiamo attrezzato il c4 non lo non va di pugno riscendiamo allora spacchiamo un po' di queste almeno riusciamo a muoverci un po' più agevolmente come cazzo funzionano le bombe così vai bella lì possiamo andare a questo altro lato bella facco no merda oppela non ce la faremo mai no cazzo l'ho buttata ok perfetto grande vabbè quindi non ci ha dato niente dobbiamo sfondare qualcosa ah no ci apre la porta così rando vabbè ci facciamo 30 piani di scale così ah no andiamo sul tetto forse dimmi tutto la porta che conduce al tetto è sprangata dai che per impedire l'accesso agli intrusi quindi però è chiusa in modo abbastanza approssimativo credo che tu possa farla saltare in aria facilmente usando l'esplosione a plastico a dopo grazie signorina eeeh vabbè proseguiamo ma questo cazzo ma questa è la porta si ma proprio io l'abbiamo pizzata mettiamoci qua anche chi c'è sul tetto vedo del movimento oh ci insegue ah un piccione ah è vero dobbiamo piegare il piccione vieni qua piccione piccione bacca puttana gli dobbiamo sparare il piccione che cazzo dobbiamo fare ma cazzo faccio piegare il piccione aspetta aspetta vaffanculo fottuto piccione con del c4 dobbiamo saltare in aria aspetta aspetta vieni qua a terra a terra fottuto piccione dobbiamo prenderlo quando a terra si a terra questo cazzo a terra no merda no come cazzo facciamo vediamo se tocca tagliare sei anni di corsa al piccione che ok 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 Grazie a tutti. Beh, finalmente, cazzo, siamo riusciti a piacere sto piccione. C'era un pezzo di carta legato alla zampa. So la lettera H è scritta in minuscolo, forse è un messaggio del dottor Marcos può significare, non lo so. Quindi? H in minuscolo, ma che cazzo, non so, andiamoci un po'. Proviamo a vedere se troviamo qualcosa. Ne dubito, però. No, là c'è stata una botola. Non lo so, boh, proviamo. Bambini dicono che c'è un passaggio sul terreno che collega la torre al palazzo di Zanzibar. Ok, vaffanculo. La strada era questa per arrivare, mi sembra, a coso, fare tutto il giro, vediamo. Dovrebbe andare bene anche questa. Certo. Ok. Ok. Facciamoci un altro piano Beh però là c'era Non mi ricordo se c'era qualcosa Riproviamo un attimo Qua è proprio così random Dobbiamo andare in giro Vedendo se troviamo qualcosa Per un pelo non ci siamo schiantati E forniamoci di tutto Quello che troviamo Anche se in realtà ancora mi manca Di solito il silenziatore è una delle cose che si trova all'inizio In tutti i Metal Gear Quindi secondo me me lo so perso da qualche parte Ecco me l'ho perso pure il mitra Cioè me l'ho perso il mitra Non è anche questo Non ci eravamo passati Mi sapevo comunque non c'avevamo la chiave Quando siamo venuti qua quindi Questi Se l'ha radiocomandato Va bene Oh porca droga Non ci eravamo Guarda dove è un affanculo Guarda qua Corazza per effetto In mezzo ai danni provocati dalle armi nemiche Ottimo Occhio qua Occhio qua Via via Ci possiamo andare Abbiamo visto tutto Per fiatto via Ciao No vabbè Allora a parte prendere ste cose Non c'era Nient'altro di particolare Nient'altro di particolare Vabbè Andiamocene Prima che ci fanno il culo Qua non c'era Qua non c'era Stato Così Fanno cuore Fanno cuore Dai ogni volta Devo cambiare 77 schede Le cazzo Mi sono perso Comunque Non so più dove sta Cos'è questo Topo Cosa ci faccio Con un topo Forse era per il piccione Non lo so Proviamo a girarcele tutte Altro topo Topo robot Che può essere usato Per disabilitare La modalità rumore Per azionarlo Premi il tasto quadrato Bimba Bimba Queste qua fuori Queste ce le giriamo tutte Queste Stanzette Vai La razione Ce la spariamo Magari Altro missilazzo Occhio Mina E qui abbiamo Concluso Perfetto 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 E lo sapevo per Cristo Funziona una geppa qua L'ultimo si metto sempre sulla tenda e quando si andano lino nazionale certo sono strane No 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 lì dentro ci sono tantissimi manichini vestiti come soldati ok... ok... andiamo a passare qua... nooo figlio di... questo significa essere bastardi dentro non so come non mi abbia visto ma va bene così aspetta qua vediamo... c'erano porte magari... vai un po' di razioni Giulio ho raccolto un secchio bene secchio normale secchio metallico del tipo usato per pulire i pavimenti sembra molto resistente non si sa quale possa essere il suo utilizzo no vabbè proprio non ci possiamo entrare no... vabbè... abbiamo visitato anche questa zona quindi... grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti